Salve, buonasera a tutti e sono qui in nome della Terza E, l'ex Terza E media musicale della Principe di Piemonte e qui ci ha invitato il municipio quindi lo ringraziamo e abbiamo sviluppato un progetto per la riqualifica di questo parco per renderlo agibile agli studenti, alle studentesse e anche ai residenti del quartiere e in questo progetto ci ha aiutato l'associazione Maria Sofia e nulla, ringraziamo il municipio e speriamo che ci coinvolgeranno nei prossimi progetti di questo parchetto, giusto? Grazie, grazie mille e abbiamo lavorato un anno in casa sicuramente l'ordine degli architetti di Roma raccoglierà i vostri propositi insieme a quelli dei progettisti tantissimi che hanno ragionato su quest'area, c'è una colla che è stata aperta e vedremo domenica gli esiti di quello che sarà qui il progetto dell'installazione che l'anno prossimo abiterà questo luogo quindi lavoriamo tutti insieme, è partito un processo di un anno quindi veramente vi lancio l'invito e oggi ho preso i contatti di tantissime persone quindi ringrazio, nuovamente il municipio, ringrazio voi, gli abitanti perché è solo con voi che riusciamo a fare le cose noi vi tralettiamo, poi lasciamo a voi e per voi quindi grazie, grazie mille l'ultima cosa voglio ringraziare però perché dietro poi il lavoro dei ragazzi e delle ragazze c'è sempre quello della scuola e soprattutto quello degli insegnanti quindi ringrazio la professoressa Biscardi che è nascosta dietro l'albero che però è stata tenace anche nel portare avanti sempre la loro idea quindi adesso la banda della Montagnola pure però ci tengo a presentarla perché anche loro sono un progetto di comunità un progetto che è nato da una colla di quartiere in questi anni sono gettonatissimi quindi vengono chiamati in tutte le attività del municipio soprattutto perché ci rappresentano in modo pieno grazie ma non parla grazie 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 E' solo sembrato. 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 E' solo sembrato.